Buongiorno a tutti amici interisti, sono le otto del mattino e tra poco inizio, mi faccio una mezz'ora di palestra prima di andare a lavorare. Intanto mi voglio scusare per i miei video, non so come fate a guardarli fino in fondo, sicuramente deve essere un po' pesante, io ho provato a seguirmi, ho provato ad ascoltarmi, a riguardarmi e non deve essere facile, quindi vi faccio i complimenti, avete del fegato, avete molto coraggio, devo migliorare un po' alla proprietà di linguaggio e non solo, quindi mi attendo commenti e un parliamone tra i commenti appunto, i consigli e anche qualche insulto me lo aspetto da parte vostra. Parlando di Inter volevo fare un nome che non ho mai fatto durante i miei video, se ne parla da qualche giorno, il ritorno di Kovacic. Io penso che Kovacic sia un ottimo giocatore, noi lo prendemmo che aveva 19 anni mi pare nel 2013 ed era un'ottima promessa cercata dai migliori club europei e l'abbiamo spuntata noi a una cifra all'epoca irrisoria, cioè no, che oggi sarebbe irrisoria. Non mi dispiaceva neanche perché in quella squadra lì c'era Icardi che stava cominciando a... aveva fatto il primo... era il primo anno anche lui. Comunque avevamo una squadra che veniva dal post Schelotto, Kuzmanovic, Gargano, quindi diciamo che era un ottimo prospetto, era l'unico comunque a giocare, a saper giocare a pallone in mezzo al campo. Poi quello che mi colpiva di lui è che partiva da dietro, partendo da dietro aveva più spinta perché aveva il dribbling oltre che la geometria e invece messo più avanti come trequartista non essendo un tiratore, non rendeva meno. Quindi per me sarebbe un ottimo giocatore se lo prendessimo a buone cifre perché onestamente a oggi lo ritengo il prospetto di allora, cioè non mi sembra... mi sembra un'eterna promessa, questo è il mio parere. Non so il vostro voi cosa ne pensate, anzi ditemi. Sicuramente spero di sbagliarmi perché se davvero dovessimo prenderlo mi auguro che faccia vedere che è ben altra roba rispetto a come lo descrivo io. Bene ragazzi vado ad allenarmi, ci sentiamo magari stasera, ok? Se vi è piaciuto il video come al solito condividete, iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale lo stesso e condividete, commentate e se avete qualche domanda, qualche argomento di cui volete che io parli fate pure, mi date degli spunti, ok? Buona giornata a tutti, a più tardi, ciao!